Siamo arrivati a fare questo per rivendicare il nostro diritto, quello che ci aspetta di diritto, quello che è giusto, se è questo che vogliono, se vogliono la piazza, se vogliono il casino, beh ragazzi facciamo casino! E qui c'è la gente di tutta Italia, da Milano a Lampedusa qui ci sono rappresentanti, gente che rischia la vita non può essere cacciata dall'oggi al domani a casa, perché prima ci hanno tolto lo status di precari, ora ci stanno togliendo quel minimo di giorni che facevamo per poter mantenere le nostre famiglie. Oggi deve prendere il deciso, perché stiamo parlando di 22.000 famiglie che dal primo gennaio 2015 non avrà più niente da mangiare. Siccome stiamo facendo il tavolo, siamo inter forza, polizia, forza della repubblica sicurezza in generale, ci sono anche i dirigenti del fuoco, vorremmo ascoltare anche voi, è una questione che cercare di risolvere la questione, noi stiamo facendo, è un tavolo dell'oposizione, non è un tavolo della maggioranza, però le proposte le portiamo. Io l'accetto, vi ringrazio, ma stretta di mano, con credica. Il problema del rispiego, anche la nostra, c'è un po' frustrazione perché le proposte le portiamo, le proposte di buon senso, le proposte per… La bloccata del Parlamento, capo. Noi oggi qui in piazza abbiamo portato i numeri, abbiamo portato i fatti, abbiamo portato le persone, siamo qui per rivendicare i nostri diritti e voi lo sapete, e non ce ne andiamo ragazzi. Non ce ne andiamo. Grazie a tutti.